Tempo di cambiare, episodio 3. Aggiornamenti importanti, riflessioni, direzioni per il futuro. Ehi, ciao da Italo e benvenuto a Tempo di cambiare, è un audio per nutrire la tua consapevolezza e quelle che io chiamo le tre dimensioni della tua vita, libertà, felicità e responsabilità. Eccoci, ho fatto un bilancio di queste due settimane insieme a questo meraviglioso pubblico di Tempo di cambiare. Avevo iniziato quasi timidamente, precisando che se sto parlando di cose che non interessano a nessuno, per favore farmelo sapere il più rapidamente possibile. E poi ho creato due episodi che fra l'altro hanno ricevuto un totale di ben oltre 20.000 download, che è un risultato che non mi sarei mai aspettato neanche nella più lontana delle mie immaginazioni. E ho toccato con mano meglio, più direttamente, proprio grazie a te, grazie a voi, grazie al contatto con gli ascoltatori in questi 15 giorni, il clima che c'è in Italia. Voglio leggere, a proposito del clima che c'è in Italia, dell'atmosfera che c'è in Italia, fra i tanti bellissimi, intelligentissimi commenti, oltre 800 che sono arrivati complessivamente in tutti i post di tempo di cambiare, quello di Luigi, per esempio. Luigi scrive certifico che il mio paese, quello che io veramente amo con il cuore, l'Italia, sta andando verso un coma irreversibile. Tutto è fermo, immobile, stantio, uno stato di coma profondo, di immobilismo, paralisi del sistema economico, sociale, produttivo, culturale. Non circola ricchezza, non c'è energia sufficiente, c'è un clima da depressione post bellica. In qualsiasi ambiente che io frequenti in questo periodo c'è un clima pesantissimo, un avvilimento e una resa totale, situazione drammatica e pericolosa. Grazie Luigi, questa è la descrizione del problema, fra virgolette, da parte di Luigi. Bene, ho scoperto e toccato con mano che a pensarlo in questo modo non è solo Luigi, non sono soltanto io, ma che come lui e come me ci sono centinaia e centinaia di commenti che hanno dato vita a uno degli dibattiti più partecipati e interessanti che si possano trovare online. Avevo lasciato i commenti aperti, non moderati, sul blog, chiunque poteva inserirli, pensavo di trovarli pieni di parolacce, offese personali e così via, come purtroppo accade spesso quando si decide di lasciare la possibilità di lasciare commenti senza moderazione. E invece ho letto qualcosa come, ripeto, più di 800 commenti in 15 giorni, tutti di persone intelligenti, costruttive e soprattutto non rassegnate di quello che sta succedendo intorno a noi in questi tempi. Da parte mia ho cercato di raccontare, cioè di scoprire insieme ai miei ascoltatori cosa sta succedendo nel mondo e perché nessun mezzo di informazione ne parla, e ho scoperto che esiste una numerosa, attivissima, intelligente minoranza consapevole che non si limita a prendere le proprie informazioni dagli organi di stampa convenzionali. Ho scoperto un'enorme quantità di persone che non sapevano nulla di quanto sta accadendo nel mondo, ma che appena sono entrati in contatto con le informazioni, con le conoscenze, con il dibattito con gli altri che sono accadute sulle pagine del nostro blog, le hanno accolte con grande apertura e ragionando con la propria testa. C'è un grande movimento di idee, di energie, di voglia di fare intorno a tutto questo e lo ripeto, lo ribadisco con le parole di Luigi, perché Luigi continua il suo messaggio che è molto bello, Luigi ti ringrazio personalmente per questo messaggio. Luigi scrive sul web, che secondo me è la cartina di tornasole più importante, posso riscontrare alcuni fattori. C'è una fortissima corrente di pensiero di persone che non ci stanno e rivolgono il proprio paese. Si danno da fare per documentarsi, per saperne di più, per attivarsi verso il cambiamento. Moltissime persone sono informatissime su tutto ciò che c'è dietro l'attuale politica e non si limitano a saperne attraverso i media tradizionali. C'è energia, ci sono idee, c'è voglia di cambiamento, c'è fermento positivo, c'è un numero impressionante di persone consapevoli, risvegliate, che conosce tutto ciò che c'è, oltre il semplice apparire. Grazie a Luigi, dieci e lode, non credo che qualcuno di noi avrebbe potuto dirlo meglio di come l'hai detto tu. E fra l'altro ho scoperto, grazie a questa trasmissione, grazie al feedback di tutti i lettori e ascoltatori, che l'importanza e la preziosità di quello che sto facendo e che stiamo facendo non è affatto quello che io sto dicendo qui a questo microfono e quello che io sto raccontando, ma la vera importanza e la vera preziosità di ciò che sta accadendo è questa collaborazione aperta e costruttiva in cui tutti quanti stanno contribuendo a far crescere, a far crescere questo dialogo, a scambiarsi informazioni, a scambiarsi opinioni e farla crescere in una direzione costruttiva. Io invito tutti gli ascoltatori, se stai ascoltando solo questo podcast non hai idea di cosa ti perdi, invito tutti gli ascoltatori a leggere quattro post che trovi su miglioramo.it slash tempo di cambiare, che è la sede di questo audio che stai ascoltando, ci sono tutte le puntate, comprese tutte le puntate precedenti, questo è il terzo episodio, terzo di tre fino ad ora, miglioriamo.it slash tempo di cambiare, anzi abbiamo anche creato un redirect permanente, quindi se dici di semplicemente www.tempodicambiare.it arrivi comunque sempre a questa stessa pagina del blog, ci sono quattro post, ci sono oltre 800 commenti arrivati in solo due settimane, se non li leggi davvero non sai cosa ti perdi. E quindi ho scoperto che, ho scoperto che, tantissimi non credono che la realtà fra virgolette sia quella rappresentata dai giornali e dalle televisioni, tantissimi non credono questo. La gente non crede più a questa realtà fasulla proiettata dai giornali e dalle televisioni, la gente non è stupida, la gente si scambia informazioni su internet, come giustamente diceva Luigi, internet ha la cartina al tornasole, perché il mondo dei giornali, il mondo delle televisioni è il mondo falso, ma quando la gente veramente naviga, cerca informazioni, si scambia idee, allora è internet che rivela molto più di ogni altra cosa, è internet la variabile impazzita rispetto ai piani di chi voleva tutto quanto omologato, standardizzato, sulle pagine dei quotidiani e sulle lunghezze d'onda dei telegiornali e così via. E internet è la variabile impazzita dove si vede veramente la gente cosa pensa, veramente la gente di cosa parla quando si incontra e così via. E qui la gente si scambia informazioni, ragiona con la propria testa, le persone si ispirano le une con le altre, ed è fra l'altro da queste decine di migliaia di persone che hanno scaricato i miei primi due episodi di questo audio o di questo podcast, se prima o poi diventerà un podcast, la domanda più frequente che mi è arrivata è cosa possiamo fare noi senza aspettare che qualcun altro prenda l'iniziativa al nostro posto? Cosa possiamo fare noi? Beh, signore, signore, io sono onorato di aver creato una connessione e un dialogo così bello con un pubblico così intelligente e così coraggioso. Cosa possiamo fare noi? Questa è la domanda principale che ho ricevuto. Cosa possiamo fare noi? Questa è la domanda che riassume tutte le domande che ho ricevuto, sia privatamente via email che sulle pagine del blog, che con i commenti audio e così via. E questa domanda è troppo preziosa per lasciarla cadere. E anche questo dibattito che sta accadendo su queste pagine di tempodicambiare.it è troppo prezioso per lasciarlo cadere o per lasciare che si atrofizzi o per lasciare che ci abituiamo anche a questo, no? Quindi dalla prossima volta, dal prossimo episodio, io intendo modificare l'angolatura di questo podcast, di questa trasmissione e iniziare a parlare prevalentemente di questo. Cioè cosa possiamo fare concretamente noi per migliorare il mondo, per migliorare l'Italia, per migliorare la situazione intorno a noi, cosa possiamo fare noi concretamente e attenzione, intendo farlo insieme a te, intendo farlo insieme a voi. Questo o è uno sforzo creativo di intelligenza collettiva oppure non è. Quando non esiste più il tempo dei vecchi leader che arriva uno e dice bisogna fare così e tutti i pecoroni seguono e fanno quello che dice il grande leader, è finito, sono morti per sempre a quei tempi. Questo è veramente il tempo dell'intelligenza collettiva, questo è il tempo dell'open source, questo è il tempo di Wikipedia, è il tempo dove la gente si mette insieme, collabora e crea qualcosa di più immensamente grande, prezioso e fatto bene di quanto qualsiasi singola mente geniale potrebbe mai immaginare di poterlo fare. Questa è la direzione in cui voglio andare da ora in poi nei prossimi episodi. Per questa volta, questo episodio è un po', come posso dire, non voglio dire arrangiato, però è diverso da come l'avevo immaginato. Avevo preparato materiale di ricerche per, non so, otto ore di registrazione o qualcosa del genere, ho accartocciato tutto e ho buttato tutto quanto via. Sono risalito di fonte in fonte, sono risalito di filone di ricerca in filone di ricerca, sono risalito di persona in persona perché forse voi non immaginate che quando qualcuno di voi nei commenti mi scrive, ehi andate a vedere quel video interessante, forse voi non immaginate che io prendo su il telefono e chiamo l'autore di quel video su YouTube o che prendo l'email e lo contatto o prendo Skype e iniziamo a parlare, iniziamo uno scambio di email, uno scambio di conversazioni Skype e così via, e quella persona mi introduce un'altra persona, e quella persona mi introduce un'altra persona, e questo è stato un filone di ricerca a mozzafiato che francamente mi ha riempito tutta la settimana. E francamente, risalendo su questi filoni di ricerca di ciò che sta veramente succedendo dietro le quinte, cioè quello di cui nessuno parla, ciò che sta accadendo nel mondo, sono arrivato a mettere le mani in un vespaio in cui, te lo dico in tutta franchezza, non sono sicuro di volerci entrare. E, badabbene, non dico questo perché ho ricevuto delle minacce, te lo dico e lo ridico pubblicamente, non ho ricevuto minacce, anche se non ho paura delle minacce e non sarebbero le minacce a farmi desistere, a questo punto della mia vita è più importante seguire la mia coscienza e rendermi utile agli altri il modo in cui io ritengo giusto rendermi utile agli altri, piuttosto che per paura delle minacce. Ho già capito cosa si prova a vivere 50 anni, non ho bisogno di vivere altri 50 anni per capire cosa significa. Quindi non perché ho paura di entrare in certi vespaio e così via, ma perché si entra veramente in un certo mondo, in certi filoni di ricerca immensamente torbidi, con conoscenze, informazioni e circostanze che non sono assolutamente affrontabili in modo diretto, nel senso che anche quando sai queste cose non puoi farci assolutamente niente, ma ti viene soltanto un enorme disgusto, perché perché queste filoni di ricerca innescano come dire pensieri altamente negativi, ti senti chiuso in un vicolo cieco e opprimente. Ecco perché dico che in questo genere di indagine non sono sicuro di volerci concentrare. Fra l'altro seguo personalmente un sentire spirituale che mi porta a, come posso dire, far sorgere il meglio delle facoltà umane in termini di pensieri, di qualità dei nostri pensieri e così via. E quindi concentrarsi per tempi lunghi su ciò che è brutto, su ciò che è negativo, su ciò che è disgustoso, veramente, veramente compromette la nostra mente, la nostra personalità, la nostra spiritualità, a livelli molto molto profondi. Quindi non sono sicuro di volermi cacciare in questo vespaio. Preferisco molto, di gran lunga, concentrarmi, concentrarci, noi, io e te, insieme, su ciò che è positivo, su quello che noi possiamo concretamente fare, concretamente fare, per migliorare un pochettino noi stessi, per migliorare un pochettino il mondo, in modo, preferisco concentrarci su come un piccolo germoglio di nuovo può emergere in quello che abbiamo adesso attraverso la nostra collaborazione, come dicevo prima, una collaborazione interattiva, come quella che si usa per creare software open source o come Wikipedia, dove tutti contribuiscono con un pezzetto di conoscenza. È impositivo, si cerca di costruire qualcosa di bene, in cui tutti quanti ci riconosciamo e decidiamo di andare in quella direzione positiva. Io penso che la nostra intelligenza collettiva, luminosa, solare, positiva, abbia più chance di migliorare il mondo, piuttosto che addentrarci nelle cose più disgustose. Scusa se ribadisco, perché non voglio sembrare pessimista, ma ribadisco perché in questa settimana sono entrato veramente in filoni di ricerca altamente disturbanti, te lo dico con tutta sincerità, e si tratta di cose che succedono a causa del, sempre a causa di quello, a causa dell'ignoranza e della mancanza di amore degli esseri umani, fondamentalmente. Quindi io voglio proseguire su un tono positivo. Se riuscirò a proseguire su questo registro positivo, con il tuo aiuto, con l'aiuto di voi tutti, su questa strada, allora vuol dire che continuerete ad ascoltare questo podcast settimanale. Se invece poi dovessimo scoprire insieme che la situazione è mostruosamente più grave di quella che avremmo mai potuto immaginare, ed è anche radicalmente diversa da quella che avremmo mai potuto immaginare, e che non abbiamo nessuna chance di contribuire positivamente a migliorare questo mondo, perché eccetera, 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 allora può darsi che decideremo di cambiare direzione, ma attenzione non come resa, ma perché a parità di tempo e di sforzi potremmo convenire che è, potremmo decidere che è più conveniente dedicarci a coltivare la nostra vita, la nostra libertà, la nostra crescita personale, e così via, piuttosto che dedicarsi a cambiare qualcosa che non può essere cambiato. Scusa lo sfogo, chiudo questa parentesi e non la riapro più, non è uno sfogo di pessimismo, è che veramente da una parte ho incontrato, come dicevo prima, filoni di ricerca altamente disturbanti su quello che sta succedendo nel giorno d'oggi, e dall'altra sono fondamentalmente una persona pratica, nel senso che sono abituato a investire il mio tempo e le mie energie lì dove io posso influire positivamente in una situazione, altrimenti non trovo necessariamente il significato in questo. Nel frattempo, mentre continuiamo a indagare insieme su ciò che accade nel mondo, io continuo con la mia missione di informare su ciò che sta accadendo e che difficilmente leggerai sui giornali, però questa volta continuo a seguire lo stesso sequenza di eventi di cui ci siamo occupati fino ad ora, partendo da Wilcox, Drake e così via, però questa volta voglio prendere un'angolatura diametralmente opposta a quella dello scorso episodio. Cioè, nello scorso episodio ho descritto cosa Drake annunciava che secondo lui sta per accadere, dopodiché ho cercato delle prove come se io volessi dimostrare che Drake ha ragione, che Drake è quello che lui dice di essere e così via. Questa volta invece introduco un nuovo personaggio cruciale in questo, nello svolgere di questi, di questi, di quello che sta accadendo ed è Benjamin Fulford e faccio il gioco opposto rispetto a quello dello scorso episodio, cioè cerco prove come se io volessi dimostrare che Drake, Wilcox e Fulford sono o completamente pazzi o sono loro stessi dei burattini nelle mani di un gioco più grande di loro che poi è il gioco che loro dicono a parole di voler combattere, ma invece così non è. E questo sarà ancora di più per gli ascoltatori un esercizio di flessibilità mentale e di indagine e di provare a pensare con la propria testa. L'aggiornamento sulle dichiarazioni di Drake questa volta è poca cosa, c'è il suo podcast settimanale che fa su Freedom Reigns, alla fine della scorsa settimana ha parlato soltanto per 5 minuti e però ha detto nel giro di due giorni succederà qualcosa di molto grosso e tutti quanti lo verrete a sapere. E diceva la Federal Reserve sarà costretta a riconoscere i propri crimini sotto gli occhi di tutti e così via. Beh, almeno questo si è dimostrato assolutamente vero, nel senso che due giorni dopo è la notizia che poi è diventata di dominio pubblico, di cui fra i primi ne hanno parlato David Wilcock ne ha parlato fra i primi sul suo blog e poi è stato ripreso in Italia dal validissimo blog Iconicon.it E cosa è successo? Adesso lo vediamo insieme cosa è successo. È una di quelle cose che potrebbero, sembrerebbero confermare quello che Fulford, Benjamin Fulford va gridando al 420 da tanti anni, come dicevo nello scorso episodio. Quindi adesso introduciamo nello scenario questo nuovo personaggio. Benjamin Fulford, altrimenti non capiamo di cosa parliamo. Benjamin Fulford vive in Giappone, è stato per alcuni anni il corrispondente del Forbes Magazine, il più importante business magazine del mondo probabilmente, corrispondente del Forbes Magazine per il Giappone e l'Asia Pacifica, è perfettamente bilingue, parla inglese e giapponese, parla anche diverse altre lingue, ed è in Giappone, è un noto opinionista, ospite in prima serata regolarmente nella TV giapponese. E così via. In una serie di indagini finanziarie negli anni scorsi, che riguardavano però più un ex ministro delle finanze giapponesi, Benjamin Fulford scopre un, chiamiamolo enorme scandalo, o meglio come si dice, seguendo il denaro, scopre un'immensa sottrazione di ricchezze del Giappone che vengono incanalate nel sistema bancario finanziario occidentale e vengono in pratica indebitamente appropriate, trasformando di fatto il Giappone in una colonia economica degli Stati Uniti senza che l'opinione pubblica giapponese ne fosse a conoscenza. Lui denuncia questo pubblicamente e continuando a indagare in questo filone di ricerca, poi il culmine è quando mette nell'angolo questo ex ministro in diretta televisiva interrogando, mette nell'angolo questo ex ministro delle finanze giapponesi. Nel frattempo continua a indagare e grazie ad amicizie nei servizi segreti giapponesi si scontra con la realtà di un'organizzazione segreta che dirige le sorti politiche, economiche e finanziarie dell'Occidente, che è quello poi di cui stiamo parlando fin dal primo episodio di questo Tempo di Cambiare. Così, proseguendo nella sua ricerca e introducendosi sempre più nella scena orientale, invece, viene a scoprire che esattamente come è in Occidente c'è una cosa alquanto analoga che avviene contemporaneamente in Oriente, cioè esiste una società segreta che dirige le sorti politiche, economiche e finanziarie dell'Oriente a cui lui si riferisce come White Dragon Society, la società del drago bianco, e che conta 6 milioni di aderenti in tutto il mondo, tra Giappone, Cina, tutto il sud-est asiatico, specialmente quei paesi di fortissima immigrazione cinese come l'Italandia, la Malesia, Singapore e così via, e fra l'altro nelle comunità di emigrati cinesi in tutto il mondo, un'organizzazione, una società segreta, la White Dragon Society, che gestisce tutta l'economia cinese, è emersa e sommersa, inclusa l'economia criminale, inclusi i flussi di emigrazione, incluso il lavoro sommerso per cui i cinesi sono famosi nel mondo, e secondo Fulford, benché, come posso dire, a noi possa ripugnare, qui io non esprimo opinioni, anzi, se dovesse esprimere le mie opinioni, direi che sono in totale disaccorto, non esprimo le mie opinioni, secondo Fulford, benché la struttura gerarchica, piramidale, mafiosa, diremmo noi, di questa società segreta, orientale, a noi possa ripugnare, lui dice che in realtà questo riflette fedalmente la cultura e la mentalità orientale, e i vertici di questa società segreta sono in realtà costituiti da persone fondamentalmente sagge e di buon senso. Fra l'altro nomina che, non so, questa antica organizzazione ha il controllo di tutte le scuole di arti marziali, per esempio, oltre che dell'economia, come dicevo prima, e così via. Ora, ripeto, io su questo ci metto sempre il beneficio del dubbio, poi figuriamoci soprattutto da studente e insegnante, in una delle scuole del buddismo tibetano, quale io sono personalmente, sono pienamente consapevole degli orrori che la Cina compie quotidianamente in Tibet, sono consapevole dell'orrore di quello che creano, del modo in cui gestiscono, non so, come vengono trattati i lavoratori sia in Cina che all'estero e così via, la loro società non è esattamente quell'ideale in cui ciascuno di noi vorrebbe vivere tutt'altro, o ci ricordiamo, non so, di Tiananmen e della repressione e del dissenso e così via. Però, continuiamo a seguire il ragionamento di Fulford. Secondo lui esisteva una sorta di trequa, fra virgolette, fra queste due organizzazioni segrete, una occidentale e una orientale, che dal punto di vista filosofico e così via, non hanno praticamente niente a che fare una con l'altra, sono come due mondi diametralmente opposti, diversi, di cui ognuno si fa gli affari propri, se così si può dire, e c'era una sorta di tregua sostanziale fra questi due. Questa tregua è stata rotta, secondo Fulford, da parte della White Dragon Society, appena hanno le loro indagini, le hanno portate alla conclusione che la SARS, se ricordate l'influenza aviaria di qualche anno fa, hanno scoperto, secondo loro, era un'arma biologica per decimare la popolazione non bianca, soprattutto la popolazione con geni orientali, la popolazione orientale, i gialli, cosa di cui molti, molti, molti hanno parlato, e su cui ci sono molte ricerche fatte a questo proposito, attendibili sul modo in cui la SARS è arrivata a diffondersi. Fra l'altro ti ricordo, aperta parentesi, e poi la chiudo, la questione che abbiamo affrontato nell'episodio 2, abbiamo accennato le Georgia Guidestones, questa sorta di linee guida di una società o di un mondo perfetto, in cui veniva scritto che è importante mantenere la popolazione mondiale al di sotto dei 500 milioni. Quindi qui c'è sempre questo filone di ricerca, che fra l'altro è uno dei filoni di ricerca altamente disturbanti che ho seguito in questi ultimi tempi, ma mettiamolo da parte. C'è sempre questo filone qui, quindi è come se la società segreta orientale si sia resa conto che dall'altra parte ci sono dei pazzi che seguono dei loro piani e dei programmi assolutamente fuori di testa, e questo, questa ribellione, questo dire non ci stiamo da parte delle società segrete orientali, avrebbe portato, secondo Fulford, a un vero e proprio cambiamento nella storia di questo pianeta, di cui nessun organo di informazione parla, ma nelle intelligence, nei servizi segreti di tutto il mondo, in realtà non si parla d'altro che del conflitto sempre più imminente e in corso di svolgimento fra la società segreta dell'Oriente e quella dell'Occidente. Mi rendo conto che quando parliamo di società segrete uno pensa di fantascienza, ma a quanto pare questa realtà è molto più fantascientifica della fantascienza. La società segreta che governa di fatto tutto il mondo orientale, la White Dragon Society, avrebbe deciso di chiudere la partita con i corrispondenti oligarchi che dominano, che controllano il mondo in Occidente, pensando che siano diventati un pericolo per tutto il pianeta e che se non li si mette in condizioni di non nuocere, i pazzi criminali, fra virgolette, saranno in grado di combinare chissà che cosa su questo mondo. Così nel far questo queste società si è create una specie di alleanza trasversale perché ad appoggiare, a condividere pienamente questa idea che esiste una cricca di oligarchi criminali che sta conducendo questo mondo in una direzione molto 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 poco piacevole, a sposare questa idea sono anche ampie parti dell'esercito degli Stati Uniti d'America, anche della Russia, anche della Cina. Ci sono qui recentissime iniziative di Cina e Russia in difesa dell'Iran, e questa è cronaca, questa è attualità, quando la Cina e la Russia, pochi giorni fa c'era sui giornali, la Russia ha fatto imponenti spostamenti di truppe ai confini dell'Iran, perché dice l'Iran è il nostro immediato vicino, qualsiasi interferenza con l'Iran lo considereremo un'interferenza diretta con i nostri affari interni. Quindi più minaccia di così è sia la Cina che la Russia hanno dichiarato di recente che l'Iran è uno dei loro principali fornitori di risorse, di materie prime, e che non tollereranno un'invasione dell'Iran. In questo quadro, estremamente delicato, estremamente complicato, vi parlavo di questa intervista in cui lui personalmente, Benjamin Fulford, in diretta, televisiva, mette in un angolo l'ex ministro delle finanze giapponesi, denunciandolo di un enorme scandalo che consiste nella sottrazione di immense ricchezze del Giappone, e così via. Il giorno dopo, Fulford viene accostato da una persona che sostanzialmente lo minaccia di morte e gli dice scegli tu se vuoi o morire a 46 anni oppure ti interessa un'alta carica nel ministero delle finanze giapponesi. Bene, il giorno ancora dopo, Fulford viene approcciato da un membro della White Dragon Society a cui era stato riferito ciò che era accaduto dalla, secondo Fulford, dalla società, dai servizi segreti sudcoreani. Così la White Dragon Society viene a sapere di questa minaccia e gli offrono la loro protezione chiedendoli di continuare a disporre i crimini della oligarchia occidentale. Questa persona gli indica anche di essere a conoscenza che useranno la HAARP, questa arma di controllo del clima e anche della terra, contro il Giappone e in effetti due giorni dopo due terremoti consecutivi nella stessa prefettura del Giappone puntualmente si verificano. Viene anche informato dai suoi informatori orientali Fulford che l'organizzazione segreta che governa l'Occidente è una vera e propria sette esoterica, è così che la si potrebbe definire, o occultista, si potrebbe definire, che lavora per la terza guerra mondiale perché questa terza guerra mondiale con la conseguente decimazione dell'umanità e la distruzione della civiltà porterebbe a una sorta di scontro finale che realizzerebbe una profezia signore e signori, secondo le quali dalle ceneri della distruzione del vecchio mondo, della vecchia civiltà e della vecchia umanità nascerebbe un nuovo mondo dominato dalla pace, dominato dalla ragione, dominato dal rispetto verso la natura, l'armonia con la natura, dominato dalla fine degli egoismi umani, una popolazione bella, ridotta, in proporzioni ideali per non sovraffollare la terra, insomma una nuova età dell'oro. Questo è, questo è, diciamo, volendo estremamente semplificare, volendo estremamente semplificare, questo hanno detto a Fulfor che sono le, come posso dire, credenze esoteriche della, della Kabbalah, si diceva in questi giorni scorsi, si usava un po' impropriamente questo termine, della, della cricca di oligarchi che controlla attualmente il mondo. Per cui la White Dragon Society chiede a Fulford di, o meglio, concede a Fulford la propria protezione per continuare questo lavoro di esposizione e denuncia di questo piano criminale. Così entra sempre più in contatto con questa alleanza, la White Dragon Society, fra l'altro un'alleanza molto più vasta rispetto alla White Dragon Society che include non solo i paesi orientali ma anche lì oltre cento paesi del movimento dei non allineati. E secondo le sue asserzioni Fulford diventa così una specie di portavoce non ufficiale di questo strano mondo semisommerso orientale. Recentemente Fulford si è reso famoso per andare in prima serata sulla delle reti televisive più importanti del Giappone a dire che Fukushima non è stato affatto un sisma, come si dice, lo tsunami che ha devastato le centrali nucleari di Fukushima non è stato affatto un sisma ma ha mostrato come si dice i grafici delle stazioni come si chiamano le stazioni che vigilano i terremoti del mondo ha mostrato come i grafici i diagrammi erano totalmente anormali e diversissimi da quello che è un normale terremoto e quindi ha accusato ha accusato ha accusato gli non so più come chiamarli a questo punto l'organizzazione segreta che governa l'Occidente di aver utilizzato le sue micidiali arme HARP ora come ritorsione contro questo o meglio come minaccia per tenere sotto controllo le potenze occidentali da da alcuni anni secondo Fulford attualmente ogni portaerea americana è strettamente seguita da un sommergibile nucleare cinese ovunque vada i paesi orientali non allineati hanno completamente smesso di usare il dollaro USA come valuta di riserva e questo è di dominio pubblico è solo che i giornali ne parlano quando ne parlano queste sono notizie epocali a mio parere quando si dice Cina Giappone e Russia hanno deciso di non usare più il dollaro USA come valuta di scambio fra di loro ma useranno direttamente le loro valute ecco questa notizia di solito appare sui nostri giornali sotto forma di trafiletti quando invece sono notizie assolutamente epocali perché tutta la forza del dollaro deriva solo ed esclusivamente dal fatto di essere usata come valuta di riserva negli scambi internazionali nel momento in cui questo viene abbandonato il dollaro cessa perfino la sua ragione di esistere così come lo conosciamo oggi quindi secondo Fulford già da tempo i dollari non sono più accettati in pagamento di nulla già da tempo le navi giapponesi hanno smesso di andare in America piene di automobili ritornandone pieni di soldi in pagamento perché i dollari USA non vengono più accettati come pagamento di nulla neanche delle automobili giapponesi e secondo lui anche questa è una cosa che si può riscontrare sugli organi di informazione ufficiali l'America sempre più sta spostando in Messico l'approvvigionamento sia di forza lavoro che di processi produttivi perché in Oriente non riesce a combinare più nulla perché il denaro USA viene sempre meno accettato ora in tutto questo scenario qual è la novità la novità è una denuncia dello scorso novembre contro la Federal Reserve e questa denuncia si è trasformata due giorni fa mentre registro quattro giorni fa in una diffida con richiesta di garanzie reali immediate per il pagamento di un debito e qui ci vuole un breve antefatto spero che non vi annoi ma penso che sia interessante capire cosa secondo Fulford sta succedendo dietro le quinte l'antefatto è che fra l'antefatto di questo evento che potrebbe mettere in ginocchio la Federal Reserve è mettere permanentemente in crisi o far crollare il sistema finanziario attuale è che fra il 1927 e 1938 il Kuomintang il partito nazionalista cinese che in quel tempo controllava la Cina subito dopo la caduta dell'impero cinese in quegli anni il Kuomintang diede in prestito a titolo oneroso cioè a interessi tutto il suo oro al governo degli Stati Uniti d'America come accordo privato per paura che la Cina potesse essere invasta da un momento all'altro dai giapponesi come poi effettivamente accadde quindi per mettere in sicuro tutto il loro oro i cinesi lo cedettero agli Stati Uniti d'America e in cambio ricevettero certificati di deposito di valore corrispondente ancora oggi perfettamente conservati ed esistenti se non che nel 1935 dopo il crollo il crollo economico del 29-30-31 negli Stati Uniti d'America nel 35 con una specie di colpo di mano in America fu vietato a ogni cittadino americano di detenere oro dall'oggi al domani questo fu dichiarato illegale tutto l'oro doveva essere ceduto alla Federal Reserve che ti ricordo fin dalla sua fondazione era privata e non apparteneva al governo americano quindi la Federal Reserve non è federal già il nome è una truffa la Federal Reserve da quel momento in poi viene autorizzata a stampare dollari sulla base dell'oro conservato come collaterale o come controvalore anche l'oro cinese evidentemente l'oro cinese di cui abbiamo parlato poco fa fu passato alla Federal Reserve in cambio di titoli emessi dalla Federal Reserve questi titoli risalenti al 1934 rimasero parte in Cina e parte poi invece fuggirono fra virgolette Taiwan quando il potere in Cina fu preso dal partito comunista cinese e la Cina nazionalista il Kuomintang gli aderenti al partito nazionalista cinese fuggirono chiamiamoli così fra virgolette i democratici fuggirono a Taiwan e tra l'altro l'economia di Taiwan fu costruita secondo questa visione questa versione fu costruita anche grazie a questi immensi fondi poi attenzione il come si può dire il rastrellamento dell'oro in tutto il pianeta non è solo un avvenimento che accadde in America della Federal Reserve verso i cittadini americani o della Cina in America ma fu un evento planetario e durante tutto l'oro mondiale anche i miei nonni raccontano che in Italia a un certo punto nel periodo di guerra tutti quanti dovevano conservare dovevano consegnare allo Stato ogni pezzo di oro comprese le fedi nuziali era diventato illegale tenere qualsiasi oro a qualsiasi titolo andava consegnato allo Stato e questo doveva essere la cosa che la cosa che raccontavano ai nostri nonni era che questo oro doveva essere fuso per la ricchezza della nazione e questo oro in realtà fu letteralmente rastrellato e tolto di mezzo da tutta la circolazione del libero mercato mondiale e fu ripeto un evento planetario in Europa gli ebrei per esempio furono rastrellati e il loro oro e i loro gioielli e tutte le loro ricchezze furono rastrellati e fra l'altro non sono mai più state restituite non sono mai più state ritrovate cosa ancora più grave nel senso che sono finite nelle mani di qualcuno l'oro l'immensa quantità di oro rastrellato agli ebrei durante durante quei quei tristi decenni così allo stesso modo Canada Australia Gran Bretagna India tutte le colonie britanniche cioè il mezzo mondo praticamente dell'epoca fecero convergere tutto il loro oro in Indonesia in Singapore in enormi bunker segreti e così di fatto alla fine della guerra tutto questo oro fu fatto sparire in un sistema parallelo non più in libera circolazione che doveva essere controllato di comune accordo fra le varie nazioni per rilanciare il mondo nel dopoguerra e favorire il benessere dei popoli e delle nazioni con una risoluzione ONU del 17 agosto 1945 chiamata Operation Heavy Freedom e di comune accordo con tutte le nazioni fu creato un fondo soprattutto di comune accordo fra le due fazioni della Cina sia la Cina comunista che la Cina nazionalista sotto il controllo della White Dragon Society che già all'epoca aveva legami familiari talmente forti da andare oltre gli apparenti conflitti fra Cina comunista e Cina nazionalista tutto questo oro soprattutto nei paesi del blocco orientale fu messo sotto la custodia di Sukarno l'allora leader presidente dell'Indonesia e fu trasferito negli anni in enormi conti in Svizzera e poi negli anni 80 passò sotto la custodia del presidente delle Filippine Marcos quindi Sukarno prima Marcos poi come uniche persone che avevano potere di firma per ritirare queste ricchezze erano coloro che ne disponevano in pratica secondo Fulford l'intera ricchezza in oro del pianeta o quasi fu ritirata dal libero mercato di comune accordo fu messa sotto il controllo di un prestanome di tutte le altre nazioni soprattutto quella del blocco orientale di comune accordo fu deciso il dollaro USA come valuta di riserva mondiale dopo tutto ti ricordo che gli Stati Uniti erano i vincitori della guerra e in pratica il dollaro da quel momento in poi sarebbe stato stampato sulla base del controvalore di questo fondo aureo mondiale ecco perché si dice che l'oro doveva diventare la valuta di riserva mondiale scusami il dollaro valuta di riserva mondiale perché il dollaro era stampato sulla base del controvalore di questo oro mondiale e l'accordo fra le nazioni in questa risoluzione ONU era quello che ha anche un altro nome Green Hill Green Hilton Memorial se non ricordo male ci sono tutte informazioni che puoi andare a verificare su Wikipedia l'accordo era di utilizzare questa ricchezza per ricostruire il pianeta ripeto in favore del progresso e del benessere dei popoli della terra sulla sulla base di questi accordi la porzione di oro appartenente alla Cina onde evitare litigi fra comunisti e nazionalisti fu messa sotto il controllo della White Dragon Society in realtà cosa fu fatto di questo oro e cosa fu fatto di questa ricchezza cosa fu fatto di questi dollari nel frattempo la Federal Reserve si era impadronita del sistema finanziario americano e la Federal Reserve è privata è questo che iniziò a creare tutte le strutture di quello che abbiamo visto in seguito ora attenzione nel 1963 ci fu un accordo firmato fra Sukarno e John Fitzgerald Kennedy le società del blocco orientali le nazioni orientali non erano affatto contente del modo in cui gli americani stavano usando il loro le loro ricchezze il loro oro secondo loro non le stavano usando per il benessere e il progresso dei popoli della terra così ci fu un accorto da parte di tutti i paesi del blocco orientale nella persona di Sukarno che ne era stato nominato rappresentante un accordo fra Sukarno e John Fitzgerald Kennedy secondo cui 59.000 tonnellate di oro dovevano essere trasferite dalla Federal Reserve al governo degli Stati Uniti quindi dal privato al pubblico in modo che il governo degli Stati Uniti il tesoro degli Stati Uniti e non la Federal Reserve privata avrebbe dovuto stampare dei dollari sulla base di queste 59.000 euro di tonnellate 59.000 tonnellate di oro come controvalore per onorare i vecchi impegni cioè di aiutare il progresso e la ricostruzione del mondo nel dopoguerra non appena firmato fra questo accordo fra John Fitzgerald Kennedy e Sukarno 11 giorni dopo John Kennedy venne ammazzato ora cosa succede oggi succede oggi secondo Fulford che due legali nominati dalle associazioni dei vari creditori di questo oro soprattutto quello dei paesi orientali e in particolar modo nominati dalla White Dragon Society hanno messo in mano a due legali tutta la documentazione che traccia meticolosamente la storia e i movimenti bancari e così via di questo oro incluse le interrogazioni della contabilità a cui i paesi coinvolti avevano accesso con i loro bravi codici d'ingresso e così via e hanno fornito le prove di una frode di proporzioni colossali consistente nell'appropriazione indebita di questo oro da parte della Federal Reserve secondo le accuse molto di questo si può leggere sul blog iconicon.it sono 70 anni di accordi non rispettati 70 anni di rifiuto di onorare i propri impegni da parte della Federal Reserve 70 anni di tracciamento di fondi utilizzati prestati ad altri venduti e su cui i banchieri occidentali non avevano assolutamente alcun diritto e tutto questo si è trasformato 4 giorni fa in una diffida con richiesta di garanzie reali immediate per il pagamento di un debito nei confronti di 12 banche della Federal Reserve le accuse sono 2 milioni di tonnellate d'oro sottratti che con l'interesse del 4% anno che era stato pattuito sono diventati 4600 tonnellate scusami 4 milioni 600 mila tonnellate di oro puro i due legami i due legali sono in possesso di tutti i titoli originari della Federal Reserve e così i creditori i creditori hanno affermato di essere stati ingannati sostanzialmente truffati dalla Federal Reserve per ben 70 anni e non hanno mai ricevuto nulla in pagamento per il presto di questo oro né le altre prestazioni che erano state prestabilite ma bensì i beni sono stati usati illegalmente da persone e organizzazioni che hanno creato enorme fortune per se stesse beneficiando dall'utilizzo illegale di questi fondi e nella denuncia vengono nominati nomi e cognomi di questa organizzazione fra cui due punti il comitato R300 la Skull and Bones Society la società come si dice teschio e ossa Skull and Bones a cui appartenevano sia Bush che tantissimi presidenti o tantissimi potenti d'America c'è stato un periodo Bush e il suo avversario democratico nelle elezioni erano entrambi membri della la prima elezione di Bush erano entrambi membri della Skull and Bones Society ancora continuando l'elenco la Bilderberg Society la commissione trilaterale Trilateral Commission il consiglio delle relazioni estere CFR Council on Foreign Relations e così via questi sono i nomi della cricca criminale fra virgolette che fin dal primo episodio di Tempo di Cambiare abbiamo denunciato quindi con precisazione da parte dei creditori in questa recentissima denuncia o richiesta di garanzie che essendo la Federal Reserve un sistema bancario privato questo debito non costituisce alcun obbligo per il popolo degli Stati Uniti d'America quindi si diffida il governo degli Stati Uniti d'America dall'imporre nuove tasse sul popolo americano perché non è il popolo americano il proprietario neanche il beneficiario di queste ricchezze ma esclusivamente una società criminale privata denominata Federal Reserve nella persona dei suoi proprietari dei suoi azionisti e dei suoi amministratori e la diffida si conclude con la concessione di 10 giorni di tempo per confutare le accuse o adempiere agli obblighi secondo Folfor tutto questo questo precipitare di eventi sarebbe poi fra l'altro curiosamente collegato al mistero italiano mistero italo-svizzero in cui nel 3 giugno del 2009 non so se ricordate due cittadini giapponesi furono arrestati perché tentavano di sorpassare di superare il confine fra Coma e Chiasso con 134 miliardi di titoli del tesoro USA in tagli in tagli ciascun titolo dal taglio di mezzo miliardo e sono tagli da mezzo miliardo che voglio dire il tesoro non concederebbe mai ai privati ma sono tagli grossi che si usano soltanto nelle scambi fra nazioni e quindi tentavano di riscuotere in Svizzera parte di queste ricchezze e ancora oggi non si è ancora capito questi titoli di stato che sono stati dichiarati assolutamente autentici a che titolo erano le mani di questi due persone sconosciute portanti passaporto giapponesi secondo Wilcox sul suo blog questo è esattamente uno di quei segnali menzionati da Drake che potrebbe far scattare l'intervento del esercito americano ora noi siamo qui come dicevo prima insieme per indagare e cercare di capire cos'è che sta accadendo nel mondo nell'episodio 2 ho dato l'aggiornamento di Drake più indizi che sembrerebbero confermare ciò che Drake dice invece questa volta voglio fare il contrario in questo episodio io voglio fare l'avvocato del diavolo e dare voce a chi si chiede dov'è che i conti non tornano e se fosse tutto quanto un inganno e se Drake Fulford Wilcox e così via non ci stessero dicendo le cose esattamente come stanno o se addirittura loro stessero dall'altra parte quindi su questo ci torniamo subito fra 15 secondi così eccoci adesso voglio vestire completamente i panni dell'avvocato del diavolo e lo faccio attraverso il commento al secondo episodio di Tempo di Cambiare che è arrivato sul blog ci sono tantissimi commenti in questo senso sono tutti commenti molto intelligenti che apprezzo completamente per cui ho voluto riconoscere questa parte dei commenti che dicevano ehi ma se questi fossero dei grandi dei grandi ma posso dire ci fosse un grande inganno dietro tutta questa faccenda di Drake quindi ho voluto onorare questa parte questa parte di opinioni quest'altra campana e la considero estremamente rispettabile la considero un'opinione una una obiezione molto molto intelligente e quindi voglio onorare anche leggendo un commento fra quelli che meglio esprime questi dubbi chiamiamoli così ed è il commento di Maria Grazia Maria Grazia scrive sono d'accordo con Ciro e Marco le dichiarazioni di Drake puzzano di doppio gioco perché numero uno leggendo il libro confessioni di un illuminato volume 1 di Leo Zagami in una sua intervista a un alto massone americano costui gli spiega come il piano sia quello già a partire da Kissinger e Nixon di affondare l'economia americana e spostare tutti i loro potenti interessi e attività a Shanghai alla fine del 2012 prima cioè dello scadere del contratto della Federal Reserve con il governo americano poiché il nuovo ordine mondiale abbraccerà i modi antidemocratici della Cina come unica possibile soluzione il massone cita anche il film hollywoodiano 2012 dicendo di notare come tutte le arche siano in Cina il che è fortemente simbolico numero due penso che il blackout ci sarà e avverrà proprio guarda caso nei tempi che ha citato Drake qui faccio una piccola parentesi secondo alcuni i cattivi gli oligarchi la cricca criminale sarebbero preparando un blackout estesissimo a livello mondiale che sarà utilizzato come scusa per instarare una sorta di legge marziale una sorta di dittatura Maria Grazia scrive penso che questo blackout ci sarà e avverrà proprio guarda caso nei tempi che ha citato Drake per la restaurazione di un nuovo sistema monetario cioè in maggio e durerà tre settimane il blackout alla fine delle quali si entrerà per i sopravvissuti poiché si pensa che il 25% della popolazione non ce la farà in un regime dittatoriale chiarisco il 25% della popolazione potrebbe non farcela perché se togli la corrente smette di funzionare tutti tutto compreso gli ospedali compreso l'erogazione dell'acqua compreso l'energia elettrica compreso tutto quello che riusciamo a immaginare numero tre continuo Mare Grazia da ieri pomeriggio il sito di stampalibera.it non esiste più vabbè questo lo eliminiamo è stato già ripristinato numero quattro infine conclude Mare Grazia tutto ciò che Drake racconta non si accorda con ciò che Monti sta facendo all'Italia e agli italiani perché è ancora al suo posto perché non si dimette perché lui non ha paura forse perché gli è stato dato un compito di governo e non finanziario e le loro dimostrazioni circensi di dimissioni coinvolgono solo quelli di loro impegnati nella finanza e non invece quelli impegnati a impiccare una nazione vorrei essere felice ma sono invece sempre più preoccupata Mare Grazia grazie Mare Grazia ti ringrazio per il tuo commento e ne approfitto ne approfitto ne approfitto prendo spunto dal tuo commento per vestire i panni dell'avvocato del diavolo e vediamo se i tre protagonisti principali di questo di queste dichiarazioni di questi presunti eventi cioè Drake Wilcock e Fulford vediamo invece di fare l'opposto di quello che abbiamo fatto nello scorso episodio cioè di dimostrare andare alla ricerca di prove che invece ci stanno ingannando sostanzialmente allora iniziamo da Drake Drake certamente potrebbe essere una pedina una semplice pedina nelle mani del vero vertice della clicca oligarchica che monopolizza il controllo dell'economia della finanza e della politica mondiale potrebbe essere utilizzato Drake e i suoi associati queste frange ultra scontente ultra frustrate dell'esercito americano potrebbero anche in buona fete essere utilizzate per epurare parti del sistema che non possono più essere difese perché internet e l'opinione pubblica sono inferocite contro quello che sta accadendo nel mondo contro la crisi finanziaria la crisi economica e così via e così farebbero il loro gioco instaurando una legge marziale ed è la primissima cosa che io stesso ho pensato quando sono venuto a conoscenza di queste informazioni anche se ho detto che il tono di Drake quando parla a me personalmente mi suona come assolutamente convincente anche se lui fosse come potrebbe essere un autentico patriota vecchio stampo nel modo in cui parla potrebbe ugualmente essere la pedina di un gioco più grande di lui anche inconsapevolmente consapevolmente o meno poi bisogna dire che la gente è talmente disgustata è il caso di dirlo dello stato di cose presenti che qualunque cosa si presenti come il nuovo fa virgolette verrebbe automaticamente salutata con giubilo da parte della gente ma guarda fra parentesi l'esempio lampante viene proprio dalla storia recentissima italiana l'opinione pubblica italiana era disgustata da Berlusconi dai suoi scandali dalle sue escorte minorenne e così via ricordo quei giorni in cui tutta l'Italia era davanti alla televisione a vedere la sconfitta e la fuga di Berlusconi e si assistevano al risorgere di una nazione finalmente e Berlusconi che batte in ritirata dopo aver ricoperto di vergogna l'Italia con i suoi scandali e così via mentre tutta la gente era concentrata a guardare questo chi è che ha notato il colpo di stato chiamiamolo così che accadeva al di sotto chi è che ha deciso che la cosa migliore per il paese fosse Monti alla fine di questo audio ti darò una ti darò una risorsa che assolutamente non devi mancare di consultare un video youtube che si intitola il piano che sta seguendo Monti ti darò un link preciso alla fine di questa puntata è assolutamente imperdibile quindi la politica di Monti cosa sta perseguendo Monti chi ha deciso che la cosa migliore per il paese fosse Monti e le sue idee chi lo ha eletto soprattutto chi è che lo ha nominato senatore a vita prima di nominarlo presidente del consiglio forse perché non era non era conveniente nominarlo presidente del consiglio che senza che era neanche senatore oltre che non essere mai stato eletto da dove è partita l'iniziativa di mettere Monti alla guida dell'Italia chi è Monti e soprattutto visto che non lo abbiamo eletto quali strumenti abbiamo a questo punto per mandarlo a casa questo è il livello di democrazia in cui vive l'Italia ovviamente molti dei miei ascoltatori che sono altamente informati sanno benissimo che Monti è stato uno dei consiglieri del Goldman Sachs sa benissimo quali sono state una delle prime azioni che ha compiuto appena arrivato al governo e così via quindi su questo non mi divago altrimenti prendiamo delle derive quindi ecco questo questa questa stessa identica fenomeno di disgusto per il vecchio che quindi dà ciecamente e accriticamente il benvenuto al nuovo è la stessa cosa abbiamo visto negli Stati Uniti d'America quando è stato eletto Obama il grande rinascimento la gente davanti ai televisori le schermi giganti nelle piazze con le lacrime agli occhi che piangevano yes we can finalmente il nuovo risorgimento rinascimento americano e poi e poi e poi Obama perché il ministro della sanità di Obama è il più grande lobbista delle multinazionali farmaceutiche perché il ministro delle finanze di Obama è il direttore della Federal Reserve Bank di New York perché Obama ha fatto una riforma sanitaria in favore dei deboli del popolo eccetera eccetera scritta di sana pianta dalla A alla Z dalle assicurazioni private che sono state le uniche a beneficiarne perché nella difesa Obama ha raddoppiato gli sforzi bellici su tutti i fronti in cui c'era e era presente l'esercito degli Stati Uniti in poche settimane e poco dopo gli hanno anche dato il Nobel per la pace come ulteriore insulto all'intelligenza delle persone ora questo è il genere di cose che ti fa dubitare che l'umanità abbia speranza di migliorare qualcosa quando la gente plaude al Nobel per la pace al Nobel per la pace hai capito bene dato a Obama però vabbè qui sto vestendo i panni dell'avvocato del diavolo per quanto ci riguarda dal punto di vista dell'avvocato del diavolo Drake può essere tutto e il contrario di tutto e quelli che mi fanno notare quando mai si è visto un esercito che porta la libertà e così via quando mai si è visto un esercito che porta la libertà io non posso fare altro che rispondere in effetti hai ragione i tuoi dubbi sono quindi i miei stessi dubbi quindi questa è l'altra campana dell'avvocato del diavolo su Drake il stesso discorso lo possiamo fare con Wilcock se vogliamo sentire l'altra campana quella dell'avvocato del diavolo David Wilcock è chiaramente un predicatore New Age diciamo così se non addirittura il predicatore New Age per eccellenza è uno dei massimi esponenti quindi di una corrente filosofica spirituale chiamiamola una corrente di pensiero che cerca la fusione fra tutte le dottrine spirituali del mondo allo scopo di costituire un'unica spiritualità mondiale che accomuni tutti gli esseri umani il che è detto così è un intento assolutamente positivo e nobile né io attenzione intendo sminuire Wilcock non sono assolutamente non sono d'accordo con Wilcock nel senso che io personalmente sono studente praticante e anche insegnante di una ben specifica tradizione spirituale quindi seguo la mia tradizione spirituale e non sono necessariamente un entusiasta dell'annullamento di tutte le tradizioni spirituali e fonderle per crearne una sola non sono necessariamente entusiasta di questo stimo però l'intelligenza di Wilcock stimo molte delle sue ricerche stimo molte delle conclusioni a cui arriva quindi non è che intendo a priori sminuirlo però questo dibattito sulla annullare tutte le tradizioni e creare un'unica tradizione spirituale come si dice sincretistica new age per il mondo è un dibattito solo apparentemente spirituale in realtà è uno di quei fattori cruciali di quello che sta accadendo nel mondo cioè da una parte abbiamo le varie tradizioni spirituali allora questo è lo stesso discorso che facevo due minuti fa ti ricordi quando parlavo del disgusto nei riguardi del vecchio molte persone sono disilluse frustrate nei confronti delle vecchie religioni delle vecchie divisioni delle guerre di religioni delle gerarchie spirituali formate da ultra ottantenni che pretendono di dire la propria sulla vita delle persone della difficoltà di comunicazione fra le varie tradizioni spirituali che non riescono a comunicare fra di loro la gente giustamente seccata di questo che rappresenta il vecchio da noi le chiese sono sempre più vuote e così via parlando ma non solo in occidente anche in oriente dall'altra che anche fra le varie cose prefigura prefigura un'unica spiritualità mondiale ed ecco l'accusa da parte dell'avvocato del diavolo una nuova unica spiritualità mondiale secondo gli avvocati del diavolo potrebbe essere nient'altro che una delle armi di penetrazione nelle coscienze e nell'opinione pubblica di un unico mondo transnazionale di una unica moneta di un unico esercito di una unica polizia di un unico governo mondiale di una unica religione laica fra virgolette allora uno potrebbe dire eh ma se tu ci pensi questo è un bene uno potrebbe dire è un bene non saremo più divisi i confini saremo un'unica umanità non ci saranno più guerre questo è sicuramente un bene l'avvocato del diavolo invece potrebbe dire dipende dipende se parliamo di un unico governo dittatoriale non eletto se parliamo di soppressione delle libertà più elementari con la giustificazione filosofica che l'uomo ha abusato delle proprie libertà perché certe diciamo correnti di pensiero ce le hanno le loro varie le loro giustificazioni logiche l'uomo ha usato male la propria libertà l'uomo ha depredato il pianeta l'uomo ha violentato la natura gli uomini si sono fatti la guerra hanno usato male loro la libertà e adesso la cosa migliore è privarlo di ogni libertà no quindi se un unico governo mondiale un unico regime mondiale significa soppressione delle libertà più elementari un popolo che riceve proprio il minimo 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 per la sossistenza o la sopravvivenza e forse neanche quello comandato da una oligarchia economica che fa il bello e il cattivo tempo con tanto di eliminazione del donaro e introduzione del microchip nella mano destra ti introdurrò alla fine di questo come risorsa di questo podcast ti darò anche il link a un altro video youtube anzi se non sbaglio è proprio lo stesso video youtube che parla anche di Monti documenta di questo piano reale concreto che non è complottismo e anzi sarà obbligatorio in tutta Europa come legge per tutti i cani da giugno dovranno avere un microchip di identificazione sotto pelle quindi se questo non è il primo passo di qualcosa di ben più mostruoso dimmelo tu quindi questo non è complottismo qui parliamo di microchip obbligatorio nella mano destra perché contiene non solo i tuoi documenti d'identità non solo le tue carte di credito non solo la tua storia personale non solo la tua storia sanitaria e così via ma anche ripeto sostituisci il denaro e la carta di credito nel senso che quando tu la pensi diversamente dagli altri ti spengono il microchip e a quel punto non sei morto sei peggio che morto questo è una delle disturbanti una delle tante disturbanti filoni di ricerca in cui mi sono imbattuto nei giorni scorsi quindi se il mondialismo significa questo è una sorta di 1984 di Orwell questo è peggio del peggiore degli incubi e se non siamo in grado di combattere questo a questo punto è meglio andarci in una zona desertica nel Sud America o nella giungla o sulle Ande dove almeno non ci possono raggiungere e obbligarci a mettere il microchip sotto pelle finché dura finché dura se è quella la direzione in cui dobbiamo andare va bene continuo con il mio ruolo di avvocato del diavolo l'avvocato l'avvocato del diavolo dice sempre a proposito di mondialismo e di unico sistema o di governo mondiale o sempre a proposito di questo dibattito di una unica religione e di unica spiritualità mondiale l'avvocato del diavolo dice che esiste un'organizzazione esoterica mondiale ne parlavo poco fa parlando di Benjamin Fulford che non è la massoneria che ha lo scopo di reclutare educare preparare selezionare indottrinare tutti i futuri governanti politici ed economisti di questo mondo e questa organizzazione esoterica esiste già adesso esercita una potentissima influenza sulle Nazioni Unite che ha contribuito a fondare esercita una potentissima influenza su tutti i potenti della terra che vengono dalle sue schiere o sono formati alla loro scuola e che porta avanti questa agenda mondialista come priorità numero uno e a proposito della priorità numero uno agenda mondialista ti prego di ascoltare con molta attenzione il video che ti suggerirò alla fine di il piano il piano che persegue Monti quindi secondo alcuni questa che ho definito organizzazione esoterica mondiale è stata la principale fautrice del progresso dal rinascimento in poi in tutte le sue forme secondo alcuni Giordano Bruno tantissimi altri eretici bruciati dalla chiesa cattolica fino a pochi secoli fa apparterebbero a questa chiamiamolo filone sotterraneo di pensiero l'ispiratore della rivoluzione francese i fautori del progresso l'ispiratore dell'indipendenza americana quelli che hanno scritto la dichiarazione dei diritti dell'uomo e quelli che da sempre da secoli agiscono per diffondere la ragione la libertà e tutti i vari ideali di progresso la libertà dalle superstizioni la libertà dalle religioni tradizionali e così via questa scuola di pensiero sarebbe quindi secondo alcuni sarebbe la principale protagonista di tutto il progresso che abbiamo vissuto fino ad ora anche in senso positivo nell'umanità secondo altri questa scuola di pensiero sarebbe influenzata da profezie lo accennavo anche poco fa lo accennavo prima all'inizio di questo episodio secondo cui la rinascita dell'età dell'oro di una nuova umanità libera degli egoismi libera dalle guerre libera dalla distruzione del pianeta e così via sarà preceduta dalla distruzione dell'attuale civiltà umana così come la conosciamo ed è un bene che questa distruzione accada perché poi grazie a questa distruzione potrà sorgere il nuovo anzi non solo sarà un bene bisogna aiutare a far accadere tutto questo ecco perché secondo altri questa scuola di pensiero questa corrente che manovra il potere da secoli ha per esempio ha finanziato sia la rivoluzione russa che il nazismo tedesco ha cercato di scatenare durante la guerra fredda il blocco sovietico contro il blocco americano per esempio al tempo della crisi dei missili di Cuba guarda caso sotto John Kennedy e che adesso sta cercando di scatenare la guerra in Medio Oriente come pretesto per una terza guerra mondiale quindi secondo altri questo è lo scenario secondo altri ancora entrambi gli scenari sarebbero veri contemporaneamente questa organizzazione esoterica ha radici luministiche sono quelli che hanno diretto il progresso da tanto tempo sono stati perseguitati e messi al rogo nei secoli e preparano la rivincita da secoli si sono infiltrati ai livelli più alti addirittura all'interno della chiesa cattolica per preparare questa rivincita e per preparare questa vendetta e lavorano per accelerare la venuta di questa distruzione per edificare il nuovo secondo altri ancora e qui poi chiudo la parentesi in questa scuola di pensiero non intendono provocare questa sorta di olocausto di sacrificio finale ma semplicemente lo ritengono inevitabile e si stanno preparando per un mondo nuovo che arriverà ora di tutto questo qual è la verità di sicuro io non lo so anche perché questa un'indagine di questo genere è troppo per una persona sola te lo posso garantire fra l'altro appena ti addentri in questa indagine viene colto dopo un poco da volta stomaco e da nausea la cosa che so è che i potenti della terra tengono in altissima considerazione queste dottrine esoteriche famosissima la citazione di J.P. Morgan J.P. Morgan diceva i milionari non fanno uso dell'astrologia i miliardari sì quindi stranamente uno potrebbe pensare da persona razionale che noi cerchiamo di capire cosa accade nel mondo studiando la politica l'economia la finanza e così via invece stranamente e paradossalmente approfondendo la ricerca se vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo ti servono anche un po' di conoscenze esoteriche astrologiche a quanto pare non basta studiare la politica l'economia la finanza vabbè in questo scenario in questo scenario qual è il ruolo di David Wilcock io francamente ancora non lo so ripeto che non appartengo alla sua corrente di pensiero possa aver stima per la sua intelligenza possa aver stima per le sue ricerche Wilcock parla senza mezzi termini contro Rockefeller contro Rothschild facendo nome e cognome ma però come Drake potrebbe essere una pedina o consapevole o inconsapevole di questo di questa orientamento spirituale che favorisce un nuovo che favorisce di fatto un nuovo ordine mondiale sicuramente David Wilcock è come dicevo all'inizio un predicatore new age e che questo sia positivo o negativo lo lascio giudicare a te infine il terzo ultimo personaggio Benjamin Fulford di cui ho parlato in questo episodio per lui vale la stessa identica conclusione potrebbe tranquillamente essere una pedina consapevole o una pedina non consapevole e poi questo nuovo sistema finanziario che lui ha annunciato e di cui abbiamo parlato l'episodio 2 cosa sarà mai perché Fulford tesse le lodi dei paesi orientali se c'è un luogo in cui molti di noi sicuramente non vorrebbero vivere in quanto a libertà individuali libertà civili libertà politiche e così via libertà di pensiero sicuramente quello non è la Cina e io ci sono stato farà parentesi senza contare e questo è un altro pezzo del puzzle che potrebbe smentire direttamente Fulford mi sono documentato su questo le scie chimiche ci sono anche in Cina le scie chimiche ci sono anche in Russia quindi chi è il colpevole delle scie chimiche anche qui ci sono alcuni conti che non tornano quindi quando iniziamo ad addentrarci in questo tipo di ricerche a un certo punto veramente la domanda più importante forse l'unica domanda rilevante è in tutto questo cosa possiamo fare noi veramente il nostro piccolo e ringrazio il mio pubblico i miei ascoltatori perché questa è la domanda intelligente che ho ricevuto dal mio pubblico più di ogni altra cosa possiamo fare noi concretamente in tutto questo scenario senza aspettare che siano gli altri a fare qualcosa per noi ed è ripeto esattamente su questo che intendo spostare tutto il mio focus e tutta la mia attenzione con il tuo aiuto con l'aiuto di tutti gli ascoltatori a partire dal prossimo episodio bene alla fine di tutto questo voglio segnalarti alcune risorse veramente imperdibili ma soprattutto voglio ancora una volta ringraziare tutti gli ascoltatori lettori di www.tempodicambiare.it ripeto in tutto questo la cosa più importante non sono affatto i miei monologhi se non visiti tempodicambiare.it non leggi tutti i commenti ti stai perdendo veramente la vera preziosità di questo di questo di questo blocco di questa iniziativa e di questo tempo di cambiare anzi possiamo dire che questo podcast o questa trasmissione non la sto facendo io ma la stanno facendo interamente i lettori e gli ascoltatori con i loro commenti da cui io personalmente ogni giorno imparo tantissimo tutte le risorse le opinioni lo scambio di idee che stanno accadendo su queste pagine fino al primo episodio dell'audio questa puntata diciamo sicuramente voglio ringraziare Gianpaolo voglio ringraziare Gianpaolo il protagonista del dibattito così della scorsa puntata ringrazio Gianpaolo perché la sua garbatissima risposta al mio dibattito nello scorso episodio nell'episodio 2 Gianpaolo si è detto interessato a sapere cos'altro ho io da dire a questo proposito e io qui adesso mi dichiaro pubblicamente interessato a sapere cos'altro Gianpaolo ha da dire in questo proposito e così il nostro dibattito può proseguire in modo civile in modo veramente molto bello e se tutti quanti seguiamo questo modo di dibattere apertamente e di cercare la verità insieme possiamo veramente dar vita a una serie di linee guida per migliorare il mondo che sorgono naturalmente dal nostro scambio di idee dal nostro sforzo creativo comune e dalla nostra intelligenza comune e a questo che penso dovremmo dedicare i prossimi sforzi e i prossimi episodi di questo podcast piuttosto che perderci dietro a seguire le trame dei complotti che dal certo punto in poi diventa talmente complicata da non poter essere più seguite a mio parere voglio dare anche pubblicamente una risposta moltissimi ascoltatori mi hanno chiesto cosa ne penso della federazione galattica e ci sono informazioni riguardo grossi cambiamenti in atto in corso di svolgimento da parte di persone che canalizzano come medium diciamo così questi membri della federazione galattica che sarebbero lo dico fra virgolette extraterrestri buoni e così via mi avete chiesto cosa ne penso e così mi sento obbligato a rispondere semplicemente sospendo completamente il mio giudizio non sono cose non sono interessi che ho mai seguito francamente in vita mia in vita mia per il mio modo di pensare ho sempre avuto un attimo di scetticismo penso che quando c'è un channeler uno che fa channeling da quello che so io è praticamente impossibile da come non lo dico con arroganza da come da come da come ho studiato io la mente come funziona la mente umana e questo ripeto nella nella tradizione in cui ho studiato e studio da tanti anni è uno degli interessi principali da quello che so io di come funziona la mente umana è impossibile che un un channeling non sia influenzato dalla coscienza soggettiva di colui che lo sta formulando quindi a partire da questa mia comprensione consapevolezza modo di pensare ho sempre guardato con molto scetticismo i fenomeni di channeling poi ovviamente sono sempre pronto a sospendere il giudizio sono una persona estremamente aperta e flessibile come modo di pensare quindi se 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 ci dovessero essere circostanze che si dimostrano fondate potrò tranquillamente decidere di seguire anche questi avvenimenti e di cambiare la mia idea in qualsiasi direzione ma per quello che penso in questo momento se tu mi dici se tu mi dici dopo domani la Corea del Nord sparerà un missile e noi lo neutralizzeremo e questo succede io ci credo ma se oggi la Corea del Nord spara un missile e due giorni dopo tu che fai channeling mi dici l'altro ieri la Corea del Nord ha sparato un missile e noi lo abbiamo neutralizzato per me una mente razionale non dovrebbe credere a questo ho bisogno di qualcosa in più per credere però questa è la mia opinione personale rispetto a chi la pensa in modo diverso oltre questo ci sono tantissimi altri messaggi che avrei voluto leggere commentare in questo episodio non ho fatto a tempo anzi mi fermo qui perché questo episodio è stato completamente non ho fatto a tempo a fare nulla nel senso che sono assorbito da filoni di ricerca che hanno portato in direzioni più o meno desiderate più o meno gradevoli e che hanno assorbito un'enorme quantità del mio tempo far parentesi una cosa che volevo aggiungere è dicevo la scorsa volta per me due punti cruciali se vogliamo iniziare a migliorare il mondo intorno a noi sono il denaro il nostro rapporto con il denaro come il denaro come il denaro condiziona la nostra vita il nostro modo di vivere da una parte è il modo in cui il modo in cui vengono prese le decisioni questi sono veramente due punti fondamentali e su cui voglio tornare in futuro quindi a proposito di denaro molti di voi mi hanno consigliato un'iniziativa lodevolissima che è quella dell'arcipelago Scheck ora io chiedo a tutti gli ascoltatori in ascolto se qualcuno può aiutarmi a stabilire un contatto con le persone che sono gli animatori dell'arcipelago Scheck perché sono andato sul sito ed è assolutamente incomprensibile soprattutto se una persona come me che aveva voglia di capire cos'è questa iniziativa e va sul sito e non riesce a capire assolutamente niente perché è tutto scritto microscopico incomprensibile immagina come questa iniziativa può riuscire ad aggregare una persona qualunque quindi io anche con tutte le buone intenzioni non sono giusto a capire niente quindi qualcuno deve suggerirgli o di migliorare la loro comunicazione in maniera di rendere chiaro ciò che fanno oppure dovrebbe gentilmente perché non ci sono neanche le informazioni di contatto ma intendo dire neanche un'email sul loro sito quindi se qualcuno può aiutarvi a mettere in contatto con loro se c'è un'anima buona che è in grado di accettare un mio invito per esempio essere intervistato qui e spiegarci che cos'è l'arcipelago Scheck e come si può spiegare agli altri con chiarezza affinché gli altri lo possano capire cos'è che fanno le cose buone le iniziative buone dovrebbero almeno insomma avere cura di avere cura di spiegarsi nel modo migliore per poter aggregare il numero maggiore possibile di persone ok siamo infine di questo episodio ti avevo promesso delle risorse consigliate sono risorse assolutamente imperdibili molla tutto quello che stai facendo e vatti a vedere questi tre video di cui ti metto il link qui il link diretto alla fine del post dove hai scaricato quest'audio troverai queste tre risorse sono tre video youtube non segnalati da me ma naturalmente segnalati dagli ascoltatori di questo podcast sono tre video bellissimi bellissimi insomma imperdibili se vuoi sapere quello che sta succedendo il primo si intitola scie chimiche e umanità sintetica il secondo si intitola il piano per cui lavora Mario Monti e il terzo si intitola scie chimiche e geoingegneria clandestina se da un lato sono sicuramente agghiaccianti dall'altro una persona che vuole sapere cosa sta succedendo ha bisogno di vedere questi tre video continuo a fare richiesta a tutti gli amici ascoltatori di contributi alla discussione alla riflessione continuate a segnalarmi risorse se avete domande per me se avete altri suggerimenti credo che l'importanza di quello che stiamo facendo sia questo e non i miei monologhi il prossimo episodio signore e signori esce giovedì 26 aprile se tutto va bene è importante che per essere avvisato di eventuali cambiamenti di programma o anche edizioni speciali edizioni straordinarie spostamenti di data e così via visita miglioriamo.it slash tempodicambiare o per brevità direttamente www.tempodicambiare.it e lascia il tuo nome e email in una delle pagine degli episodi cioè all'interno della pagina in cui scarichi l'episodio c'è un nuovo modulo direttamente sotto il pulsante download dove lascia la tua email non ti manderemo email di cose scollegate ti avviseremo se ti avviseremo sul futuro svolgimento degli episodi di questo podcast se sei un blogger puoi adesso linkare questo audio sia a miglioriamo.it slash tempodicambiare sia puoi creare un link a tempodicambiare.it lascia sempre il tuo commento sul blog miglioriamo.it slash di cambiare sotto questo episodio episodio 3 scrivi quello che pensi perché quello che tu pensi gli altri lo leggeranno gli altri risponderanno e insieme possiamo creare una nuova direzione costruttiva o non voglio essere troppo fare il passo più lungo della gamba può darsi che se ci impegniamo insieme possiamo iniziare a identificare una direzione positiva verso la quale andare per migliorare il mondo intorno a noi ancora una volta da soli non possiamo fare niente se ci mettiamo insieme possiamo almeno ispirarci gli uni con gli altri per migliorare noi stessi e il mondo per oggi ciao da Italo e il mondo Grazie a tutti Grazie a tutti